Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedele. Il traffico si è al momento regolarizzato sulla rete autostradale regionale. In FIPI lì permangono code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Nel traffico urbano di Firenze segnaliamo blocco temporane della circolazione in via delle Cascine e chiusura di via di San Gallo per scavo urgente. Siamo al traffico ferroviario per Guasto ad un passaggio a livello tra San Marco Vecchio e Fiesole e Caldine. Il treno 18890 a Faenza Firenze sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. E' prima di salutarci per il TPL a Siena da sabato 8 giugno fino al 10 settembre. Dalle 20 a fine servizio sarà chiusa il transito via di Salicotto. Deviazioni per i mezzi in linea. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.